Ciao, oggi vorrei parlarvi del disturbo bipolare. Mi è stato chiesto che differenze ha rispetto al borderline o al narcista patologico. Visto che del borderline e dell'NP abbiamo parlato ampiamente, oggi diamo alcuni accenni su quello che è la patologia definita come disturbo bipolare. Il disturbo bipolare rientra ovviamente nei disturbi dell'umore e si caratterizza per grave alterazioni delle emozioni, dei pensieri, dei comportamenti della persona. Chi ne soffre può essere in un momento al settimo cielo, perché magari si è successo qualcosa che lo porta su a livello di emozioni, di emotività, e poi può passare improvvisamente alla disperazione in un altro momento senza una ragione apparente. Quindi poi così passa dalle stelle alle stalle come si dice, o viceversa, in modo repentino, senza veramente un'apparente causa scatenante, e passa quindi dal paradiso della fase maniacale o ipomaniacale all'inferno della fase depressiva. Quindi c'è un'alternanza frequente tra la fase maniacale o ipomaniacale e la tendenza della fase depressiva. C'è questa alternanza continua. Purtroppo, bisogna dire purtroppo, nella gran parte dei casi questa patologia non viene riconosciuta con facilità e le persone possono star male davvero parecchi anni prima di ricevere una corretta diagnosi, l'adeguato trattamento, ovviamente da persone veramente specializzate e preparate in questo tipo di problemi e di patologie. Dalle statistiche, circa il 4% della popolazione ha un disturbo bipolare. Di solito questo disturbo si manifesta per la prima volta prima dei 30 anni e il primo episodio può essere sia maniacale che misto ed è leggermente più frequente nelle donne. Per comprendere meglio la variabilità dell'umore, possiamo pensare ad esempio ad un termostato dell'abitazione. Immaginate il termostato che regola la temperatura del vostro appartamento, qual è la funzione del termostato? È quella di mantenere stabile la temperatura del vostro appartamento e quindi regolarsi in base a quelli che sono i cambiamenti ovviamente dell'ambiente circostante. Quindi se voi avete il riscaldamento a 18 gradi, il termostato fa sì che il riscaldamento si attivi se la temperatura scende a 18 e si stacchi quando raggiunge la temperatura impostata, cioè tiene un livello costante. Ecco, nel nostro cervello abbiamo un sistema simile, non è proprio un termostato ovviamente, ma è il sistema limbico che rappresenta un po' il termostato, tra virgolette, del nostro stato d'animo, del nostro stato emotivo, ed è incaricato ovviamente di mantenere una certa stabilità e regolarità, facendo sì che questo risponda in modo adeguato agli stimoli e ai cambiamenti che succedono all'esterno di noi, quindi nel nostro ambiente che ci circonda. Bene, nel disturbo bipolare purtroppo il sistema limbico non funziona in modo corretto e questo fa sì che il tono dell'umore diventi veramente variabile, diventi molto instabile e sia indipendente dall'ambiente che ci circonda. Ecco perché si possono avere degli alti e bassi molto repentini e esagerati, dove la gente che il vede si chiede che è successo per avere questa reazione, no? Ovviamente. Quindi, abbiamo detto che questo disturbo è caratterizzato infatti da un'alternanza molto veloce, inspiegabile a volte, tra uno stato depressivo e di uno maniacale o ipomaniacale, no? Quindi quando c'è una compresenza di fenomeni simili, possono essere o maniacale o ipomaniacale e depressivo, oppure addirittura misto, quando c'è una, non si è né completamente depressi né completamente in forma maniacale, no? Però si ha un predominio di irritabilità, ansia, irrequietezza e quindi sono stato un misto che non si capisce bene esattamente da che parte voglia stare. Ovviamente, non dobbiamo confondere questa patologia, questo problema di bipolarismo con quelle persone che hanno i famosi alti e bassi, no? Dell'umore, che ognuno di noi può bere nel corso della propria giornata, della propria vita quotidiana, perché tutti siamo soggetti un po' a volte a situazioni particolari nell'ambiente che ci fanno, fanno far sì che il nostro umore vada un po' sulle montagne russe, su e giù, no? Ovviamente. Infatti, chi soffre di disturbi bipolari non è che dice, ah, un alto e basso, soffre di alto e basso e sono bipolare, no? È ovvio che se io ho delle situazioni particolari posso avere degli sbalzi di umore. L'importante è che siano giustificati, tra virgolette, nel senso che è ovvio che se io ho una situazione particolare, rimango senza lavoro, non posso andare in giro a essere felice, no? O se ho un lutto in casa, oppure se ho una bella notizia, è logico che posso sprizzare di gioia, ma questi alti e bassi sono dovuti al fatto che ci facciamo influenzare da quali sono le circostanze esterne. Invece, quelli bipolari hanno reazioni esagerate senza un apparente motivo, no? reale che li scatena. È ovvio che i bipolari possono veramente arrivare a avere reazioni molto esagerate, no? Quindi possono arrivare a rovinare, sì, i rapporti interpersonali con le persone, perché non sanno gestire la quotidianità in modo normale, hanno queste forme esagerate di reazione, possono addirittura riportare a perdite del posto di lavoro, per reazioni incontrollate e esagerate, e in casi estremi queste persone possono andare addirittura a comportamenti autolesionisti e anche al suicidio. Ecco perché ovviamente non sono da confondere le due cose, tra avere qualche alto e basso nella vita quotidiana e avere dei problemi di bipolarismo. Molto spesso i soggetti che soffrono di questo problema hanno avuto episodi simili in famiglia, quindi i geni ovviamente hanno una percentuale di probabilità, ma ovviamente non sono l'unica causa, no? Dagli studi fatti, ovviamente, si è visto che ci possono essere dei problemi a livello proprio della persona stessa, no? Non li ha ereditati, ma proprio lui ha questi problemi o squilibri dei neurotrasmettitori, o livelli molto alti di cortisolo. Ci sono comunque dei fattori scatenanti che possono scatenare un problema, una patologia di bipolarismo latente, che sono lo stress, l'abuso di sostanze superfacenti, l'assunzione di particolari farmaci, dei cambiamenti stagionali e ovviamente la mancanza di sonno, perché sonno è veramente ristoratore. Non per niente ci aiuta anche a rigenerare il nostro organismo e ci aiuta anche a eliminare quelle che sono la parte di tensione, far sì che il nostro cervello riesca a riposarsi un attimino. Bene, spero di essere stato chiaro, utile, se non altro, a capire alcune cose. Per qualunque necessità, non certo per la cura del bipolarismo, di cui io non sono ovviamente abilitato, ma qualunque altra necessità, sotto avete tutti i riferimenti per qualunque aiuto, o consulto abbiate bisogno. A presto, al prossimo video, ciao!